Di nuovo una buona giornata in questo giovedì 23 gennaio dalla redazione di Udinese TV, continua il nostro spazio di approfondimento mattutino, come al solito con uno sguardo alla situazione della viabilità. Partiamo da Udine, partiamo dalla centro città e diamo il buongiorno alla vice ispettore Francesca Silvestri dalla sala operativa della polizia locale che ci aggiorna sulla circolazione in città. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, il traffico è regolare, fluido, non ci sono problemi relativi a sinistri o ad altri cantieri. Voglio segnalare soltanto dei possibili rallentamenti, uno sulla via Feletto, in quanto per lavori alla rete idrica in via Buia, istituito il liveto di fermata, il liveto di transito, per cui il traffico sarà deviato proprio sulla via Feletto, quindi sulla via Feletto ci potrebbero essere dei rallentamenti. Ed ancora per lavori alla massicciata della linea ferroviaria, in via Gerbasutta, all'altezza di via Lumignacco, il passaggio a livello resterà chiuso e quindi il traffico sarà fatto defluire tutto sulla via Lumignacco, quindi anche in via Lumignacco lì non si potrà girare sulla via Gerbasutta. Per il resto tutto regolare. Grazie, grazie e buon lavoro alla Polizia Locale di Udine. Questi gli aggiornamenti dunque, le immagini li vedete che arrivano dalle telecamere posizionate nei punti nevralgici della città. Sul fronte via Abilità ci spostiamo sulla strada regionale 464 tra Martignacco e Ciconicco di Fagagna perché c'è stato un incidente stamattina attorno alle ore 7 che sta provocando ancora rallentamenti e code sia in direzione Fagagna sia in direzione Martignacco. Lo vedete la segnalazione da Google Maps questo. Dunque l'incidente, non sappiamo ancora l'entità di eventuali feriti, naturalmente nelle prossime edizioni vi aggiorneremo su questo. Andiamo anche in autostrada con un controllo dal sito Info Viaggiando. Al momento non sono segnalati particolari problemi lungo la A4 tra Trieste e Portogruaro. Vi ricordiamo sempre la chiusura in direzione Venezia dello svincolo di San Giorgio di Nogaro sia in entrata sia in uscita mentre viene segnalata anche un restringimento di carreggiata in direzione Trieste tra la Tisana e Palmanova anche sulla A23 tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Tarvisio. Carreggiata ridotta a due corsie a causa di lavori in corso, nessun problema invece per quanto riguarda l'A28 e l'A34. Questo è il quadro sul traffico dunque. Ora siamo pronti invece a farci raccontare quali sono le previsioni del tempo per la giornata odierna e le prospettive per il fine settimana. Diamo il buongiorno ad Arturo Puccillo dalla Sala Osmer. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La situazione meteorologica per oggi è ancora caratterizzata da alta pressione. Direi c'è l'imprevalenza sereno sulla regione, vento di bora moderato sulla costa, impara un po' di aria anche da nord-est sulle zone orientali della pianura. Abbiamo temperature che nel corso della giornata saliranno in pianura e costa fino a circa 10-11 gradi. In montagna si manterranno su valori analoghi nei fondovalle. In quota lo zero termico che stamattina era ancora a valori elevati di 3.000 metri tenderà a scendere un po' verso i 2.500 metri. La giornata di domani trascorrerà ancora inizialmente con cielo sereno e quindi con inversioni termiche, ancora delle gelate notturne probabili sul corso della pianura e nei fondovalli montagna, mentre in quota rimarrà ancora piuttosto miti con temperature sopra zero anche a 1.500 due di una metri di quota. In giornata poi nel pomeriggio potrebbe arrivare bella nuvolosità, più compatta poi in serata e nella notte e nella giornata di sabato potrebbe produrre anche qualche debole e locale precipitazione, direi ben poca cosa in relazione appunto a una precipitazione, quindi appena qualche locale sporadica e debole pioggia. Miglioramento dovrebbe seguire nella giornata poi di domenica, naturalmente ne riparleremo. Grazie, grazie d'Arturo Puccillo dalla Sala Osmer Arpa con tutti gli aggiornamenti dunque sul tempo. Per quanto riguarda il meteo chiudiamo qui il capitolo e ora andiamo a dare un'occhiata agli aggiornamenti di cronaca dall'Italia e dal mondo con il sito dell'ANSA. Partiamo dalle ultime ore, ovvero dai controlli sui passeggeri in un volo atterrato a Fiumicino per il problema del virus che è divampato dalla città cinese di Wuhan, epicentro del coronavirus. Sono transitati in un canale sanitario dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri, i 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dall'autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo di linea diretto dalla Cina, appunto, atterrato alle 4.50 all'aeroporto romano, poi in un'area appositamente attrezzata, gli altri controlli previsti dalle procedure del Ministero della Sanità. Al momento non si ha notizie di alcun caso sospetto, la compagnia di volo sullo scalo atterra a Fiumicino tre volte a settimana. Gli altri aggiornamenti sempre con le ultime ore, andiamo in Spagna con la tempesta Gloria che fa sette morti. È salito così il bilancio della tempesta che la perturbazione ha visto spostarsi poi anche sui Pirenei francesi, nel sud della Francia, è allarme rosso per possibili inondazioni. Due fiumi sotto sono già esondati, 1.500 le persone evacuate, l'ultima vittima in Spagna è stato un uomo caduto in mare nel porto di Palamos nel nord-est della Catalogna. La tempesta sta portando con sé piogge torrenziali, neve, vento a 100 km orari e onde alte fino a 10 metri. Nell'ultime ore Meteo France ha confermato un'allerta rossa a nord di Perfignan e a sud di Carcassonne. Circa 1.500 i residenti evacuati dalle cittadine della zona. Ancora con le ultime ore dell'ANSA andiamo alla sparatoria di Seattle negli Stati Uniti, una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite nella città americana dove un uomo vestito di nero ha sparato in un'area affollata e poi è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. La polizia lo sta braccando tra i feriti anche un bambino di 9 anni e una donna, entrambi in condizioni critiche e tre giovani di 21, 34 e 35 anni. L'aggressore avrebbe agito da sole in una zona frequentata anche da turisti. Da l'ANSA a TG Com 24 continuiamo con gli aggiornamenti di cronaca e qua anche in primo piano ritroviamo il virus misterioso arrivato a Roma al volo da Wuhan, passate allo scanner i 202 passeggeri, isolata la città cinese, non si parte più. Un'altra ultima ora ci arriva da Reggio Calabria invece con il Maxi Blitz antidroga, sequestrate 13 milioni di dosi dall'alba nella zona di Reggio e nelle altre zone del territorio l'operazione dei carabinieri per smantellare l'organizzazione che aveva base nella piana di Gioia Tauro, la quale aveva strutturato in maniera industriale la produzione di marijuana, sequestrate quasi 13 milioni di dosi coltivate nei campi, oltre 100 milioni di euro, il valore stimato degli stupefacenti. Andiamo su Repubblica ora, l'apertura del quotidiano nella sua versione online, la politica con il PD contro la Rai, da Vespa una spot pro Salvini nell'intervallo di Juventus-Roma e poi ancora le tensioni nei 5 stelle, Di Maio lascia, bisogna rifondarsi il peggior nemico è dentro di noi. Chiudiamo la nostra carrellata web con il Corriere della Sera, l'apertura anche in questo caso Di Maio, pugnalati alle spalle dalle retrovie ha dichiarato ma già pensa come tornare, Patuanelli in pole, anche Diba di Battista si scalda. E poi sempre dal Corriere, Salvini nell'intervallo di Juve-Roma, il PD contro la Rai, un comizio solitario. Lasciamo il web e torniamo sui quotidiani cartacei, ripartendo dagli approfondimenti dedicati al nostro territorio, sul messaggero Veneto oggi, prendendo spunto dalle dichiarazioni di ieri del Presidente di Confcommercio da Pozzo, si fa il quadro sul valore e sull'importanza del commercial dettaglio in Regione, dopo la notizia che c'è la volontà di sostenere i negozi di montagna con una proposta mutuata dal Trentino Alto Adige. Contributi fino a 15.000 euro per le nuove aperture, quello che chiede da Pozzo, dal canto suo l'assessore regionale Bini sostiene l'idea, è valida, la stiamo analizzando, vedremo dunque se ci saranno margini di trattativa. Nel frattempo si ricorda anche quanto è già stato fatto nei comuni carnici di Treppo e Rigolato, con una carta promossa dalle amministrazioni comunali, i residenti pagano meno i prodotti alimentari, così si tutela le piccole realtà. Contatti in corso anche con un affermato gruppo alimentare interessato all'iniziativa. Sempre dalle pagine del Messaggero Veneto andiamo ad approfondire questa notizia con Flambruzzo che trasforma l'ex fornace in un ecovillaggio per salvare il pianeta. Gaiaterra è il progetto solidare per eliminare la plastica, sbaiz, tutto è autoprodotto e il caffè diventa detersivo. Nell'approfondimento anche con le immagini si racconta dunque l'iniziativa del territorio con una vita di comunità pensata anche per rilanciare le aree dismesse della località. Sempre dalle pagine del Messaggero invece temi economici con la battaglia di Civibank. Ieri si sono ritrovati i dissidenti, serve un partner, non è più tempo, del Fasin di Bessoi, il leader Marinig. Senza interventi faremo la fine della Popolare di Bari, poi ci sono le proposte per il nuovo CDA, Chiappo, Picco e Dennetta, i tre nomi proposti. Oltre 250 soci ieri hanno affollato le sale dell'hotella di Moret con l'Assemblea. Pronta la replica della Presidente del Piero, getta acqua sul fuoco, la nostra banca è sana, così la numero uno dell'Istituto di Credito Cividalese. Andiamo in città ora con il tema rifiuti che continua a scaldare i cittadini, i cassonetti del verde torneranno in strada e niente multe per i primi 15 mesi. Questa è la promessa di NET che rimette in discussione il servizio per la raccolta degli sfalci. Il sistema appena partito ha bisogno di correttivi. Sempre per quanto riguarda poi le notizie legate al territorio, l'allarme dei disabili, i rifiuti ospedalieri ingestibili, un gruppo di residenti di Udine Sud chiede soluzioni per sonde e cateteri, ma la NET assicura il problema è noto, siamo al lavoro per risolverlo. Ancora da Udine Città, torniamo sulla fuga di gas che vi abbiamo raccontato ieri in serata tra via Quileia, via Zoletti e via Lungheria, l'allarme è scattato attorno alle 18.30 con i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale di Acegas, APS e AMGA al lavoro per rilevare le segnalazioni dei cittadini, ma i valori sono nella norma, questo quanto emerso dai sopralluoghi. Ancora in città con la notizia di una donna scomparsa, vado a Trieste, si cerca un'artigiana, Marina Buttazioni, 54 anni, non dà notizie di sé da venerdì, l'ultima a vederla è stata la madre, poi l'allarme dato alle amiche e l'appello dei familiari. Chissà qualcosa si rivolga subito alle forze dell'Ordine, questa è la foto della donna scomparsa. Dalle pagine del Gazzettino andiamo a recuperare altri argomenti legati al nostro territorio, partiamo con l'operazione dei carabinieri di Palmanova che ha visto sgominata una banda che era dedita ai furti in casa, in appartamenti e ville, il colpo dei Rolex di Manzano avvenuto la scorsa estate ha fatto scattare l'operazione, 12 almeno i colpi che sono stati ricostruiti, 4 all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, una donna è finita ai domiciliari contestata dagli indagati, le razzie tra le province di Udine e Gorizia e la denuncia con l'accusa di ricettazione anche per un'altra donna trovata in possesso di un orologio rubato. A proposito, con la pagina del Gazzettino vi ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera su Dinese TV, Storie di Tute Blu, Fingantiere Electrolux Safilo con Alberto Terasso in studio, ci saranno Diego Moretti, Alessandro Colauti, Nicolò Sgarellino, William Pezzetta e Indira Fabbro dalle ore 21 su Dinese TV. Sempre con le pagine del Gazzettino parliamo di sanità e degli ospedali a misura di donna con il Friuli premiato ancora per i servizi Rosa. In Italia i nosocomi che hanno ottenuto il bollino sono 335, in Friuli Venezia Giulia 6 centri insigniti riconoscimenti anche a Tolmezzo, San Giorgio e San Daniele con due bollini. E poi la notizia che riguarda la ribolla gialla con i produttori che fanno rete, con la Vendemme 2019 è nata una filiera dedicata al vitigno per legarlo al territorio per questo vino, il consumo è in costante aumento e negli ultimi anni gli incrementi sono stati superiori al 30%. Dal Gazzettino alla Piccolo andiamo nell'Isontino con le notizie dedicate a Gorizia città, si ritorna sull'operazione della Guardia di Finanza con i veterinari assenteisti, l'azienda sanitaria si cautela episodi che minano la credibilità. Al via un procedimento disciplinare per le due persone coinvolte, il direttore generale dice la stragrande maggioranza di dipendenti lavora con scrupolo. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza si spiega i dettagli dell'operazione e le indagini sono state condotte con pedinamenti e GPS. Sempre su Gorizia c'è la città rischio incidenti, concorso Italia sorvegliato speciale, anche via terza armata rientra nella mappatura delle strade più pericolose, la maggior parte degli schianti tra le 11 e le 12, le statistiche sono a cura dei vigili urbani. E poi c'è l'orso avvistato a Savogna, attraversato la strada statale, la presenza del plantigrado sul vallone, segnalato da un automobilista all'arrivo dei carabinieri, l'animale però aveva già fatto perdere le sue tracce. Andiamo a Pordenone ora con le notizie del messaggero dedicate alla destra tagliamento, si parla del Galvani che trasloca, le aule saranno ricavate dentro un albergo e il conto lo paga l'Uti. I 200 studenti si trasferiranno dal 3 febbraio da via interna all'affitto annuale della proprietà della Santinia di 60 mila euro. La direzione avvisa i genitori, nessuno perderà un solo giorno di lezione. Ancora da Pordenone le notizie legate alla cronaca cittadina, c'è il caso di un uomo che scappò all'alta dei vigili, condannato quasi 500 alle violazioni nella ZTL, un anno e 4 mesi all'uomo che rischiava di investire una pattuglia dei vigili, scovata e multata anche l'automobilista a contromano in contrada maggiore. Questo per quanto riguarda le notizie che arrivano dal territorio e poi ci trasferiamo anche con il giallo di Sacile, recuperata dall'ivenza la macchina del mistero a Cavolano, chiusa per consentire i lavori dei vigili, la strada impegnati per 4 ore. L'auto della ditta mozzone è stata rubata oltre dieci giorni fa ma è giallo sul tuffo nel fiume, vedete le operazioni di recupero dei vigili del fuoco. Lasciamo la cronaca e apriamo la pagina sportiva partendo con la Gazzetta dello Sport che oggi tra i suoi approfondimenti propone l'arte del dribbling che pare essere ritrovata, almeno dalle statistiche. Boga e Castrovilli lanciano il Sassuolo in questa particolare classifica che mette a rapporto la media totale di dribbling tentati, il giocatore con più dribbling riusciti e quelli che ne ha tentati di più. Ebbene l'Udinese si posiziona nella fascia alta, vedete il Sassuolo il Torino ai primi posti, l'Udinese si piazza con un 17,1%, Secco Fofanà con i 35 dribbling riusciti è il migliore dei bianconeri, Stefano Caca per quanto riguarda quelli tentati è a quota 52, sono questi i due giocatori dell'Udinese protagonisti di questa particolare classifica, vedete anche ci sono le percentuali dei campionati stranieri dalla Premier League alla Liga, dalla Bundesliga, alla Liga 1, questo sul fronte approfondimenti, tornando invece al calciomercato c'è il quadro della situazione squadra per squadra per quanto riguarda l'Udinese, si ricorda le cessioni di Pussetto al Watford, di Sierra Alta all'Empoli, di Viseu al Grozny, l'obiettivo rimane Ziegler ma ci sono altri nomi che circolano. Per i nostri prossimi avversari, quelli del Parma, andiamo a recuperare l'articolo della Gazzetta, Gabbia Samp Tonelli, i doriani trattano col Napoli anche Iones, Lecce, ufficiale Saponara, si attende a qua questi e gli altri affari, l'Udinese sta per cedere o poco la Mie, in prestito neroso 500 mila Euro per 18 mesi e diritto di riscatto a 5 milioni, questo l'aggiornamento per quanto riguarda il mercato dell'Udinese. A proposito di Udinese andiamo ad avvicinarci alla sfida contro il Parma del Tardini di Domenica e con una certezza quella dei tre tenori, li definisce così il messaggero Veneto, le nuove fondamenta dell'Udinese Targata Gotti ovvero De Polman, Dragora e Fofanà che formano il giusto mix di qualità, quantità e corsa. Da sei gare il tecnico li schiera sempre assieme e il loro rendimento si è alzato. L'Ivoriano da mezza alla sinistra in sei gare ha segnato un gol e ha fornito quattro assist. Questo il quadro sul pacchetto dei centrali bianconeri. Sul fronte squadra, l'Ukaka è recuperato definitivamente, ieri ha presenziato ad entrambe le sedute al Bruseschi dove c'erano tutti ad eccezione di Samir. Hanno preso parte a lavoro anche i giovani Ovisak e Stuparevic, aggregati alla prima squadra, oggi e domani l'Udinese si allenerà alle 12.30 mentre sabato la seduta sarà alle 14.30 dopo la conferenza stampa di Gotti prevista per le 11.40 che naturalmente vi trasmetteremo in diretta. Per quanto riguarda poi il mercato, il messaggero racconta dell'agente di De Pol che è andato dal Milan, la Premier Busse invece per Fofanà e dopo le avance dell'Inter l'incontro tra Agustin Jiménez e il club rossonero. L'intermediario Moravito, sto trattando Livoriano in Inghilterra per 22 milioni. De Maio Stop Genoa in uscita invece o poco, prestito di 18 mesi ai francesi. De La Mien. Questo sul fronte bianconeri, andiamo a recuperare anche le pagine del Gazzettino che per quanto riguarda il lavoro in vista del Parma ci aggiorna sulle mosse di Gotti, una garanzia per centrare l'obiettivo salvezza senza patemi e di privilegiare il gioco. Scrive Guido Ogomirato, da quando il tecnico Veneto è stato chiamato a sostituire Tudor ha cambiato marcia e si viaggia alla media di 1,4 punti a gara ma non sta sfruttando ancora al 100% le potenzialità del suo motore per la storia degli ultimi 10 campionati di A. Si ricorda che al Giro di Boa chi ha conquistato 24 o più punti è sempre salvato, l'unica eccezione costituita dalla Samp nel 2010-2011 e retrocessa dopo aver virato a quota 26. Il dilemma per domenica, l'unico dubbio potrebbe essere quello del difensore di centrodestra, il ballottaggio riguarda Becao sceso in campo contro il Milan e De Maio che pur giocando sinora meno del brasiliano dà valide garanzie sul piano dell'esperienza. Gli allenamenti li abbiamo ricordati, oggi e domani 12.30, poi sabato rifinitura. Per il mercato anche il gazzettino parla di Opoku che se ne va a cercare fortuna in Francia per 18 mesi con diritto di riscatto. Le altre uscite, Sebastian De Maio pare bloccato dopo l'imminente cessione di Opoku. Lucas Theodorci che invece al momento l'Udinese con l'Underlecht mantiene delle richieste che la società belga non sembra risposta ad accontentare. Il passaggio di Pussetto al Watford inoltre ha ridotto il parco attaccanti e per questo non si svende nessuno. Andiamo a vedere anche in Casa Parma cosa succede con diversi infortuni. La situazione è delicata, Grassi in gruppo l'eccezione che ha confermato la regola di una difficoltà globale dei ducali dal punto di vista degli infortuni. L'allenamento di ieri a Collecchio non hanno preso parte Gervigno, Kucca, Sepe e Kuluseschi. Per le notizie anche legate a Caramon hanno svolto allenamento specifico, terapie entrambi difficilmente recupereranno per domenica e di certo non ci sarà Roberto Inglese. Per l'attaccante infatti è confermata la diagnosi di lesione muscolare. Dall'Udinese passiamo alla Pordenone con la Gazzetta dello Sport che fa il punto sul mercato anche del campionato di Serie B. Andiamo a recuperarlo con il quadro delle cessioni degli ultimi affari. Intrigo a Frosinone, Lempoli arriva a 9, pazza idea a Tacopina, Ardemagni trotta solo dopo la partita. Anche Zurzowski alla corte di Muzzi, il presidente invita De Rossi a Venezia. Il Pordenone al momento ha visto solo l'arrivo di Boccalone e la partenza contestuale di Monachello. Sul fronte invece squadra c'è Pobega che guarda al Pescara, la mezzala del Pordenone ripartita alla grande, piace all'Atalanta e al Norwich ma non vuole distrazioni. Il centrocampista nero-verde che, come racconta Alberto Bertolotto, è pronto ad affrontare la prossima sfida contro la formazione abruzzese. Abruzzesi che avranno in panchina le grottaglie salito dalla primavera dopo le dimissioni di Zauli. E vedete anche il gazzettino. Ripropone il Pescara in crisi, si affida ad un atleta di Cristo, il tecnico provvisorio dei Delfini. Sabato giocherà alla Dacia Arena. L'ex Juventino ha ideato il progetto sociale di fede, ribattezzato Missione Paradiso. Sul fronte Pordenone invece Ciuria non recupera e si aprono le porte per una possibile partenza dall'inizio di Boccalone, come mette in luce anche il messaggero Veneto. L'attaccante arrivato dal Venezia potrebbe partire dal primo minuto, Strizzolo infatti non è al meglio, Ciuria ancora out. L'attaccante si candida ad una maglia da titolare. E a raccontare Boccalone ha un suo vecchio compagno di squadra, Maracchi, che dice sa attaccare lo spazio ma dà il meglio di sé in area di rigore. La mezzala della Triestina racconta la qualità della nuova punta, sarà motivato e le sue qualità si adattano al 4-3-1-2 Nero Verde, giocarono assieme a Venezia. Le ultimissime sulla formazione di Tesser, Gavazzi, Mezzala e Chiaretti trequartista potrebbe essere la tentazione sulla formazione da schierare in campo dell'allenatore del Pordenone. Nel frattempo l'altra iniziativa ieri nella città del Noncello, una giornata nero-verde per lo sponsor Omega, che è andato a rafforzare il pacchetto del presidente Lovisa. Ieri in campo per un turno infrasettimanale di recupero anche le squadre dei dilettanti e l'eccellenza ha visto la vittoria roboante del Fagagna sul Torviscosa 3-0, una profagagna che si riproietta in chiave promozione. Frimpong, Pinzano e Nardi hanno firmato il 3-0, hanno stoppato la capolista che si ferma così a 10 vittorie esterne di fila e ora sono a meno due. Manzanese e Brian Lignano salgono a tre punti dalla vetta, il fleibano di Cassin supera la Progorizia, respira il Lumignacco che batte il Primorio. Vedete i risultati della giornata di ieri con il Fontana Fredda poi che è andato a vincere a Gemona, il fiume Veneto che si è imposto 2-0 sul Codroipo, 1-1 tra Procervignano e Virtus Corno, vince il fleibano come detto a Gorizia così come il Lignano a tricesimo, guida Torviscosa 39, Profagagna 37, Lignano e Manzanese a 36. In promozione si ferma la Sacilese, 1-1 con la Maranese, vince invece la spalla Cordovado in trasferta a Rauscedo che continua a comandare il girone. Nel girone B invece il Sistiana 39 nella sfida tra Premariacco e Faugli svincono gli ospiti per 2-0. Dal calcio di lettanti al basket l'Apo Oldwell West che lavora per la supersfida contro la capolista Ravenna parla oggi Gazzotti al messaggero Veneto che carica all'Oldwell West la Verapus e la gioca con tutti domenica al Carnela, arriva la capolista e l'Ala è tra i giocatori con qualche acciacco, non dobbiamo pensare a questo, dice Gazzotti, la nostra è una squadra organizzata e allenata bene. Le ultimissime della formazione, Fabio Amato oggi tornano in gruppo, Pena invece è ancora out con il programma degli allenamenti della seconda parte della settimana, oggi al mattino al pomeriggio doppia seduta, mentre domani un solo impegno pomeridiano. Sabato si lavorerà l'ora di pranzo e poi domenica la partita al Carnera alle ore 18. A proposito della sfida, disponibili ancora 500 biglietti ma si va verso il tutto esaurito e non poteva essere diversamente con la capolista che fa visita ai bianconeri. Nel frattempo l'iniziativa Giulia e TJ in visita agli strudenti del Marconi. Sempre dalle pagine sportive del Messaggero parliamo di sport invernali con il Beatron che l'Italia aspetta Lisa e Doro, in Slovenia il test decisivo, la Sappadina Vitozzi e l'alto Atesina Wierer, tra le più attese della tappa di Coppa del mondo, sarà l'ultima prima dell'appuntamento con i mondiali di Anter Selva. Nello sci invece c'è anche il frullano Buzzi sulla strife di Kizbühel, Pittini invece ci prova in Germania. Ancora dalle pagine sportive ricordiamo il tennis con gli Australian Open, Fognini che passa al turno al quinto set fuori invece Berrettini e Sinner, Federer e Diokovic sul velluto. Queste le prime gare degli Australian Open. Andiamo anche con il volley, Martignacco se la gioca ma Trento non perdona e si prende la semifinale in Coppa Italia di A2 femminile, ieri sconfitta per le ragazze del presidente Ceccarelli 3 a 0 dal Trento. Una notizia anche di giudo, il trofeo al Peadre con 1100 atleti è stato presentato ieri al Benedetti, un'altra iniziativa sportiva che interesserà il nostro territorio da vicino. Questo per quanto riguarda lo sport, ora vi aggiorniamo naturalmente sulla nostra programmazione che continuerà in giornata come al solito gli appuntamenti con l'informazione alle 11 alle 12 anche per seguire da vicino i bianconeri alle 15 pomeriggio calcio e poi di nuovo informazione live alle 16 alle 19 alle 22 e 30. In prima serata invece come abbiamo già anticipato la puntata dell'agenda dedicata alle tute blu con Alberto Terasso, grandi ospiti in studio e poi contributi dalle realtà più importanti del territorio, dalla Electrolux alla Safilo a Fincantieri. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata sempre in nostra compagnia. Grazie a tutti per averci seguito